Mi piaci quasi sempre. Lolo e Rita sono molto diversi. Lui è un onisco e lei una lucciola. Buon umore! Attenzione! Cattivo umore! Di lui dicono che è il re del camuffamento. E di lei che brilla come nessun altro. Lolo e Rita capiscono di essere molto diversi. Per questo si piacciono. Però all'improvviso un giorno quella corazza forte che le piaceva ora le sembra troppo dura. La sua aria di controllo e indipendenza ora le sembra esagerata. E per dirla proprio tutta si è stancata di tanto mistero. Adesso Lolo trova che Rita brilli troppo. e gli sembra anche che voli troppo veloce. Cose che prima gli piacevano ora iniziano a irritarlo. Lolo e Rita capiscono di essere molto diversi. Per questo non si sopportano. Così all'improvviso un giorno Lolo prova ad ammorbidire un po' la sua armatura. E Rita riduce un po' il ritmo del volo. Lui ha fiducia e si lascia condurre una volta su venti. Adesso Lolo e Rita capiscono che anche se sono tanto diversi si piacciono molto. Fine